Ti piacerebbe imparare a suonare il tema della saga del Signore degli Anelli? Segui il video fino in fondo. Ciao, sono Fernando e sono un cornista professionista. All'interno del mio canale YouTube vi è questa rubrica dedicata sul corno francese che ho chiamato Il Quadricorno. Prima di presentarti il brano ti chiedo di iscriverti al mio canale se ancora non lo hai fatto. attivando anche la campanella delle notifiche sarai avvisato ogni volta che pubblicherò un video. Il Signore degli Anelli John Ronald Tolkien, vissuto tra il 1892 e il 1973, è stato uno scrittore britannico ed è conosciuto principalmente per essere l'autore del romanzo Il Signore degli Anelli. Romanzo sul cui il regista neozelandese Peter Jackson basa i suoi film che compongono la trilologia del Signore degli Anelli. La serie è stata uno dei più grandi successi cinematografici di sempre. Ma andiamo a suonare insieme uno dei temi più celebri di questa saga. Romanzo sul cui il regista è stato uno dei temi più grandi. Romanzo sul cui il regista è stato uno dei temi più grandi. Romanzo sul cui il regista è stato uno dei temi più grandi. Il musicista che ha scritto le musiche della trilologia Il Signore degli Anelli è Howard Leslie Show ed è un compositore e direttore d'orchestra canadese. Autore di circa 90 colonne sonore e vincitore di diversi premi Oscar, tra cui anche quello per la musica del Il Signore degli Anelli. Su questo canale puoi trovare altri video dedicati a melodie celebri come questa. Inoltre potrai trovare video dedicati alla tecnica, altri dedicati ad una serie di esercizi che chiamo i quattricorni con i quali puoi misurare il tuo livello di bravura e anche alcuni video dedicati agli assoli di corno che i grandi compositori hanno scritto nelle loro opere. Se ti fa piacere seguirmi e sostenermi metti un mi piace a questo video, puoi iscriverti al mio canale cliccando il bottone rosso in basso a destra con scritto iscriviti e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Grazie per avermi seguito fino in fondo e arrivederci al mio prossimo video. Ciao! Ciao!